Riscoprire Edoardo De Filippo, la sua storia, le sue opere e la sua pace. In questo senso il progetto che ha coinvolto gli alunni delle scuole Giovanni XXIII, Benedetto XVI, Maria Grazia Cutuli, Margherita, Anna Frank, Gravina e Pertini Santoni di Crotone, iniziato lo scorso anno che ha visto il momento culminante con la presenza del nipote del maestro, Luisa De Filippo, figlia di Luca. I ragazzi hanno voluto rendere omaggio a Edoardo con alcune performance artistiche. Per mio nonno Edoardo De Filippo la pace era un tema ricorrente in molte delle sue commedie, molti dei suoi scritti e lui portava avanti questo tema, insomma, credendoci e raccontandolo in vari modi. Noi siamo stati molto contenti di essere stati invitati per questo progetto, è stata un'iniziativa che subito abbiamo colto con gioia e con immenso piacere, anzi dovrebbero farlo tutti, dovrebbe essere una cosa che si insegna, insomma, nelle scuole. Un progetto coordinato dall'assessorato comunale alla cultura che ha visto anche la partecipazione di Maria Procino della compagnia Luca De Filippo. Giuseppe Laratta per la Cineos 24